ecco, vediamo un po' il particolare, un po' di ruggine ok, ecco qua, questo è un paletto di recensione, continuo con gli altri questi invece, guardate un po', paletti un pochino più nuovi, bene bene che strano ecco, magari sono dei paletti che vengono messi qua soltanto quando c'è il rinnovo dell'affitto bene bene si vede di là come l'aria sia stata usata in passata come strada ecco così, eccoli qua questo è lo che è scritto di te ma qua è reale si ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti.